Stiamo lavorando con Fiaso alla definizione dei profili del middle management. Noi con la società scientifica della quale sono presidente, la FADOI, la federazione che riunisce medici internisti ospedalieri, abbiamo contribuito alla definizione del profilo clinico assistenziale. E' stato un lavoro che è durato parecchio tempo, è stato interrotto giocoforza dal problema del lockdown e della pandemia di Covid e adesso sta riprendendo con difficoltà questo lavoro e speriamo che possiamo proseguirlo senza difficoltà legate alla ripresa dell'infezione. L'aspetto importante che credo sia utile sottolineare è che questa situazione pandemica ha rappresentato una sorta di sfida, di prova generale, di test da sforzo per la messa a punto e per la prova di questi profili del middle management. E' stato proprio il middle management che è stato messo in questo momento in campo e che ha potuto definire la propria professionalità, il proprio impegno, collaborare ad affrontare il problema ai vari livelli. Ecco, paradossalmente questa situazione emergenziale però ci ha dato la possibilità di affinare questi profili e poi in futuro arrivare a definirli meglio e a definire soprattutto la loro flessibilità e adattabilità. Grazie.